Allora adesso che cosa facciamo? Io direi di fare le interrogazioni, allora per oggi c'erano le interrogazioni programmate, vediamo chi c'era Allora per oggi c'era Alessandro, Alessandro, Alessandro E provo a fargli la verità, Alessandro ha scritto sul gruppo che oggi sarebbe stato assente Come mai Alessandro non c'è ragazzi? Almeno c'è la sua riserva? No prof, non c'è una riserva di Alessandro Queste cose proprio io non le tollerò, mi dispiace, adesso pesco qualsiasi persona a caso e mi dispiace Ops, qualsiasi persona a caso, io dico proprio Colude Colude, viene l'interrocazione, oh? Ma perché proprio io prof, io, io? Ma ancora Alessandro? Ciao!